Ciao a tutti ragazzi e ben tornati nella vanilla Ben nati ragazzi Ben nati nella vanilla Vite la cittadinanza in questo villaggio Grandi Grandi Oggi abbiamo pensato come vi avevamo detto in una puntata precedente Di andare in miniera per cercare belle cose Che tra l'altro probabilmente manca anche qualche smeraldo Che ci avevate detto che ci siamo persi per strada all'altra volta Sì voi siete veramente attenti quindi grandissimi ragazzi Quindi direi di partire per la ventina Minimo essenziale come spade, picconi, ferro, banco da lavoro, cibo Io ho un bel po' di torce e poi il resto niente Io ho patate Altri picconi di ferro ma non inciantati E basta Un secchio Tra l'altro ragazzi vi volevo far sapere che Faremo delle live questo fine settimana Però non sapremo ancora bene verso che ora In ogni caso vi avviseremo sia su Instagram Quindi seguitici su Instagram Pristratino basso startuno E sia sulla community di YouTube Quindi chi ha Instagram può seguirci là Chi no, tranquilli Che arriverà Arriverà anche sulla community di YouTube Sì infatti Carbone Ah lì c'è lo spawner di ragni Perfetto No aspetta aspetta Andiamo da qua sopra Che bello Oh oro Ok Qui non c'è niente Tento Io prendo dell'oro Non hai acqua vero? Sì ce l'ho Ok Allora togli qua la lava Please Ti please Non faccio prima togliere la sorgere Esatto Eh sì sì Grande Ok aspettiamo Prendiamo anche l'oro Quindi Muoviti Muoviti Loro poi Cosa Ah zombie Buongiorno 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 Sparisci Grazie Qui c'è una piccola Fontana Piscina Ecco Qui cosa c'è del ferro? Boh scendiamo di qua ragazzi Ragazzi Gigante Ah qui c'è lo spawner Oh smeraldi Rari Cosa fa? Aspetta C'è lo smeraldino Sono felice ma 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 C'è sto scemo qua Mannaggia non mi sono fatta la spada Ah Oddio che spavento Ok ci sono Morto Smeraldino Sempre con me I zombie Caspita Però mi sto un po' arrabbiando questi smeraldini Perché io voglio diamantini e Diamantozzi Diamantozzi Ma i diamantozzi non ci sono Aspetta Metto qua una torcia Qua non c'è niente Io direi di abbassarci ancora un po' ragazzi Eh vabbè scusa Siamo a 17 C'è anche ragione Andiamo in labo Scava un po' dove Scavo Sì 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 Scavo 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 Oddio 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 Aspetta c'è C'è uno scheletro qua Se me lo togli Eh se ti lo Se ti levi Se mi loggo Se ti loghi Vai vai Buongiorno Muori Rip Tunnel Ma quant'è log Wow Raga fiutazzo eh Togli te Bang Ma quanti 8 Ma vabbè raga Cosa Serviva il piccone con fortuna Lari Eh lo so ma da dove zio Vabbè andiamo qua Visto che ci ha portato fortuna 8 diamantozzi In una botta sola Oh tra l'altro qui continua Ups si è buggato Scherzavo Ah no sì 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 Ok Allora cerchiamo di salire in modo furtivo Tra l'altro la zona lì delle Delle rotelle non l'abbiamo neanche esplorata Più di tanto ma No infatti Aspetta che qui mi sa che c'è Ah no Siamo tornati sempre da me Siamo tornati qui Ok Quindi siamo sempre qua Ma quanto è grande Raga è una cosa enorme Ma quanto è grande Ma qua La cosa è bella Vabbè no qui va troppo in su Smeraldo no Io non ci credo Oh è vero Prendi prendi Ciula 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 tutto Lari Qua è gratis Andiamo a vedere Madonna raga Ma cos'è Qua un botti Smeraldo Dove Ma serio Non ci credo Ma dio mio Io controllo Io controllo Da queste parti No ma sta miniera è veramente Il top Il top Io non ho mai beccato Così tanti smeraldi Ma mai In una miniera Super felice Boh va bene Tra l'altro devo approfittare Un attimo del carbone Perché mi faccio un po' di esperienza Ah è vero Perché me l'ha ciullata un po' Il tavolo degli incantesimi Tu hai controllato Sì sì ho controllato Ma adesso esploro anche altre zone Un po' più buie Ah qui si sale Si può salire su Ma chi se ne frega Faccio che ho un po' di livelli col carbone Perché non mi fanno male Sì le portate che non sali Cioè più di tanto Lì c'è la zona delle cascate Ma non ci salgo Perché non ha senso salire Aspetta che vengo a trovarti Però qui C'è una corsia sopra Vuoi salire su? Attento che non ci sia qualche spanne No 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 Non c'è niente Però controlla per bene ovunque Smeraldini Smeraldozzi Smeraldaci Un po' tutto Di ora che non vedo più niente Però è andata bene Però adesso sì Io direi comunque di seguire questa scatina Eh ma salì troppo su secondo me Boh va bene andiamo Tottos con me finisce Scherzavo Dobbiamo tornare indietro Che bello Beh torniamo lì nella miniera Con i binari E ci siamo un'altra via Sì sì esatto Qui ci ha portato fortuna Ma troppa fortuna Ci ha portato Lapislazzuli Che comunque male non fanno Hai trovato? Sì Gli hai trovati scavando così? Sì 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 Trovati scavando E quindi si necca Che a questo livello Perfetto Redzone a fianco Interessante Io per ora niente Vendiamola raga Scherzavo Io direi che sono super contenta Perché abbiamo avuto tipo quasi un tesoro Otto diamanti Io granito È bello Allora ho trovato una zona nuova Io zero Cioè io continuo a scavare attorno Cioè dimmi te se questo non è il pozzo dei suicidi Perché No è il pozzo dei diamanti secondo me Non hai dell'acqua? Hai dell'acqua Fala scendere Perfetto Arrivo arrivo Perché c'è anche su Voglio dire Quello C'è anche una zona qua su C'è un botto d'oro Poi hai dimenticato della Redstone Non avevo dimenticato chissà cosa di portante Dimenticato della Redstone c'è Ok qui non c'è niente Togliamo quell'oro Togli te Sì Allora attenta sotto Perché magari c'è ancora della lava sotto lo strato di ossidiano Ah sì aspetta Non si sa mai cosa ci sia Scaviamo un po' Scaviamo un po' Scaviamo un po' intorno Ok c'è un po' di lava Attento Ok magari la tolgo già Sì sì togli Sec Beh comunque del ferro ci sta C'è ferro Redstone qua Ok Attenta Interessante Ai 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 Guarda com'è messa È messa un po' a cavolo Però me lo sento Qui c'è qualcosa Per forza ci deve essere Ok Allora la lava Non finisce sta puntata Finché non trovo un diamantozzo Mi toglie anche qua dell'acqua Aspetta Con l'acqua Sì 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 Ok attenzione Quanta lava c'è? Oh c'è un bel Mi sa che è un lagone Esatto Sì effettivamente sì Ok bravissimo Lo so grazie Però male che ti sei ricordato del secchio Io non ho Non l'avevo per caso Nel inventare Non è che Bene che ammetti Ma cos'è sto senso Che la lava è un po' così A cavolo Io me lo sento Che qui c'è un diamantozzo Cioè dai Non me lo sento a chi Magari qui vicino alla redstone Smeraldi Vicino alla redstone Madonna se scavavo E finiva nella lava Mi mettevo a piangere Vicino ai smeraldi Ci sono i lapislazzoli E c'è altra redstone E c'è ferro Madonna che cos'è? Che combo C'è guarda Scaviamo Datemi anche di amanti a fianco Sono felice Oh qui c'è Oh lari Ok Ok Zona 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 Allerta Ok qui Oh no 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 Erano infetti Erano infetti Porca miseria Ok Muori Mangiando le patate Oddio quanti Attento che non ne sbuchino altri No no ma non dovrebbe Ma qua c'è un botto di robot Però i diamanti Diamanti Oh mio Uno Due E basta Ma va bene Ma va bene Va bene va bene Ok qui c'è dell'oro Quindi tanto vale pigiarlo Aspetta Vlad che qui è pericoloso Eh lo so Libera un po' Tanta Orca miseria Aspetta Ok grandissimo Il punto qua è che sicuramente c'è C'è della lava sotto Sì Diamanti Ma va Ma va Tieni Oddio Guarda quanti Oh mio dio Oh mio dio Questo non serve fortuna Bastava avere il piccolo indiamanti Quattordici 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 Oh che bello Che ci facciamo L'armatura Ma dora Perfetto A casa ne aveva pochissime Avanti po' Due C'è della lava Esatto No dai Top Bellissima sta miniera Mi piace un botto Io ho due diamanti Quindi magari Ah io ne ho quattordici Quindi sedici Più quelli due a casa Dovrebbero essere due Caspita non ho più Raga Eh Non hai più picconi Ce li ho io Tac Grande Grandissimo Che minierona Che puntatona Che puntatona Raga in live Se facessimo un'ora di vanilla in miniera Ci uscirebbe tipo uno stack di diamanti Caspita doveva fare il live Sta miniera Ma veramente Però non avremmo avuto la stessa fortuna Come minimo Come minimo non trovavamo niente E io sto trovando i soliti minerali A fianco agli altri tipi di Vabbè io ho trovato anche io diamanti No ma dico Sta facendo la stessa cosa Della vanilla lì nella Nella savana Minerali A fianco ad altri tipi di Mineranti Esatto Perché così abbiamo trovato anche diamanti Fino adesso Ok hai trovato dell'oro Hai trovato redstone Un sacco di carbone Ferro Redstone Ok Posso andare a dormire felice Cioè se mi trovate un altro diamantino Uno Uno basta Basta Non chiedo altro Tantissimo oro però In sta puntata Sì sì ma guarda quanto carbone O uno stack Quasi No sto finendo anche il piccone Io raga Niente mi sa che ci arrendiamo Sì ci arrendiamo Perché qua io tolgo le ultime cose E boom ho finito No no Sicuramente c'è qualcosa C'è qualcosa ma Non sappiamo dove Grazie Cioè è normale Però Ok ho trovato Altra redstone Però se mi mettete così Minerali È ovvio che continuo Sì esatto Ti tenta È un po' come i pacchetti Su FIFA Cioè ti vengono ad aprire In continuazione Qui la ghiaia Faccio l'ultima Spaccata Qui Scavo in dritto Qui e poi finisco Basta Basta Chiudendo Fermatemi raga Fermatemi Se no non riesco più No vabbè Finiamo qui ragazzi Dai Direi che per oggi È andata veramente Alla grande Dove sei Vlad? Sono qui Stavo scavando per unirmi Proprio perché sono dipendente Dallo scavare No 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 Niente Finito Comunque ragazzi Speriamo che vi sia piaciuta Questa puntata Io vi ricordo di troppare un like Iscrivervi se non ci fanno Non ci fanno io Ciao